Buonasera a tutti, buon pomeriggio anzi. Oggi è il secondo incontro dedicato, un breve ciclo di tre incontri dedicati alle cause e alle conseguenze della guerra in Ucraina e oggi ci occupiamo di economia in particolare con un focus sull'effetto della guerra sull'inflazione, quindi questo fenomeno che noi avevamo conosciuto oltre 40 anni fa pensavamo che si fosse finalmente addormentata, dominata, controllata e in realtà è risorta a un certo punto e non è risorta per effetto di politiche monetarie come vuole la teoria dominante in economia che quando sampi tanta moneta aumentano i prezzi perché sono 15 anni che le banche centrali non fanno altro che iniettare moneta nel sistema finanziario e invece l'inflazione era proprio addormentata, anzi il problema era proprio che eravamo ben sotto il 2% che per esempio è il target della Banca Centrale Europea, invece in conseguenza della guerra in Ucraina abbiamo visto una fiammata, già a dire il vero forse la stavamo già osservando prima, poi ci spiegherai le ragioni che sottostanno a questo fenomeno, però soprattutto con la guerra in Ucraina, con la crisi energetica, il fatto che non abbiamo più accesso, non vogliamo più accedere e ormai non possiamo più accedere alle fonti energetiche russe, chiaramente questo fenomeno è diventato particolarmente importante, la reazione del Banco Centrale è stata aumentare i tassi di interesse e con tutte le conseguenze che ancora forse dobbiamo vedere, abbiamo appena iniziato a vederle. Allora noi parliamo di questo, parliamo dell'inflazione con un ospite gradita, Nadia Garbellini, economista dell'Università di Modena che ha accettato il nostro invito, quindi io le passo volentieri la parola, l'onore di spiegarci cosa sta succedendo. Sì, mi aggancio a quello che dicevi tu, cioè il fatto che in realtà i prezzi hanno cominciato ad aumentare, i prezzi del gas diciamo, hanno cominciato ad aumentare prima che iniziasse la guerra, quindi diciamo che già alla fine del 2021 i prezzi hanno cominciato a salire. Noi, ovviamente il discorso sarebbe ampio e complesso, però sostanzialmente quello che a mio avviso è successo, non soltanto ad avviso mio ovviamente, è che la causa vera e propria di questo sul riscaldamento dei prezzi del gas è da andare a ricercare più che nella guerra in sé, nel fatto che già a partire dagli anni 90 sono stati liberalizzati i mercati dell'energia, quindi con delle direttive europee che poi sono state recepite dall'ordinamento italiano, il mercato dell'energia è stato smembrato in diverse fasi e sostanzialmente quello che osserviamo oggi è che a causa del fatto che i prezzi ora sono determinati dai mercati finanziari, in particolare dal TTF che è il mercato finanziario che si trova in Olanda che peraltro è di proprietà del ministro dei trasporti olandese, proprio il mercato, lì ovviamente qualsiasi evento o aspettativa di evento che possa generare forti oscillazioni nella domanda del gas si riverbera immediatamente in movimenti speculativi che quindi causano grandi oscillazioni dei prezzi, quindi per tutti gli anni 2000 questo non si è osservato in maniera così forte perché comunque la situazione era tutto sommato stabile, di certo non c'erano previsioni di fiammate nella domanda visto che poi anzi c'è stata la crisi 2007, 2008, 2012 insomma di certo come dire non si sono create tensioni speculative sui mercati, poi con il covid se vi ricordate nel 2020 i prezzi, le quotazioni prima del petrolio hanno cominciato a comportarsi in maniere singolare, c'è stato un giorno se non ricordo male era forse l'agosto del 2020, adesso non vorrei dire una sciocchezza sulla data, che addirittura le quotazioni del petrolio sono diventate negative, cioè se qualcuno andava a prendersi perché? Perché c'era stato il covid, quindi la gran parte degli scambi in realtà riguardano contratti derivati, quindi non è che si scambia davvero il petrolio, perciò i depositi dove questi barili fisici di petrolio stavano in genere erano sempre mezzi vuoti, lì durante il covid con le chiusure chi doveva effettivamente acquistare il petrolio, cioè chi faceva queste transazioni perché effettivamente gli serviva il petrolio, non solo per motivi speculativi, non lo ha ritirato perché non gli serviva e quindi c'erano i depositi pieni e di conseguenza c'è stato per qualche giorno, quindi tutte queste chiusure, poi riaperture eccetera hanno causato in effetti delle tensioni speculative se vogliamo sui mercati, i prezzi dell'energia hanno cominciato a comportarsi in maniera del tutto caotica a partire già dal 2020 e poi con la situazione in Ucraina era comunque tesa già da qualche tempo, perciò che ci fossero delle tensioni che potenzialmente potevano poi riverberarsi sul mercato dei derivati dell'energia era anche insomma qualcosa di prevedibile, tanto è vero che in realtà le grandi compagnie come Leni che fanno insomma usano questi contratti finanziari come copertura, cioè magari acquistano oggi i derivati funzionano, lo dico perché magari non tutti sanno esattamente che cosa sono, sono degli strumenti finanziari che di fatto sono dei contratti che riguardano la compravendita di una merce che si chiama sottostante che può essere un bene, un servizio, ma anche una scommessa su un evento, insomma non deve necessariamente esserci qualcosa di materiale, qui parliamo dei derivati energetici che quindi invece hanno come sottostante il petrolio, il gas eccetera eccetera, quindi il contratto derivato può essere visto o come una scommessa, io scommetto che domani il prezzo sarà più alto, quindi acquisto questo prodotto, questo contratto che dice che io tra sei mesi posso acquistare il petrolio al suo prezzo di oggi, quindi se il prezzo poi aumenta io sto facendo un affare perché lo sto pagando di meno, se il prezzo insomma a seconda di cosa succede al prezzo, quindi diciamo che sui mercati finanziari avvengono queste, insomma la speculazione è una sorta di scommessa sul prezzo futuro e quindi sulla capacità di realizzare un guadagno posticipando una vendita o anticipandola a seconda che il prezzo poi aumenti o diminuisca, quindi le grandi compagnie normalmente quando prevedono insomma qualche mese prima dello scoppio della guerra hanno già iniziato e normalmente comunque lo fanno sempre acquistare queste grandi, queste quantità comunque ingenti di prodotti energetici assicurandosi il prezzo corrente, quindi in realtà questi extra profitti di cui si è molto parlato sono anche basati su questo, cioè sul fatto che le compagnie hanno acquistato il gas al prezzo di qualche, non so, mese, anno, dipende da quando sono stati acquistati questi derivati e a noi lo stanno vendendo invece alla quotazione attuale sul mercato, in bolletta, quindi è lì che si realizzano questi extra profitti, quindi sostanzialmente innanzitutto possiamo subito dire che il fatto che siano aumentati i prezzi del gas ovviamente è correlato alla guerra, cioè il fatto che ci sia il conflitto e che il conflitto sia cominciato ha dato modo ovviamente agli speculatori di ritenere che ci sarebbe stata una restrizione dell'offerta del gas e quindi un aumento dei prezzi, ovviamente quando gli speculatori si aspettano che i prezzi aumenteranno agiscono come se i prezzi aumentassero e così facendo li fanno aumentare per davvero, quindi sono le aspettative diciamo che si autorealizzano e quindi certo che la guerra ha influito sull'aumento dei prezzi del gas, lo ha fatto però perché i prezzi del gas sono determinati sui mercati finanziari, quindi questa che ci è stata presentata negli anni 90 come una innovazione necessaria, ricordiamoci che i decreti che in Italia hanno liberalizzato, quindi il recepito normativa europea, sono stati il decreto Bersani e il decreto Letta, quindi questa ubriacatura liberista del centro-sinistra o sedicente tale ci è stata presentata come una maniera per ridurre l'incertezza, le fluttuazioni, cioè come se contrattare le merci sui mercati finanziari fosse qualche cosa che serviva a stabilizzare il sistema, mentre invece i prezzi proprio per costruzione dei mercati finanziari di come funzionano sono stabili in periodi stabili, non cambia niente, ma quando ci sono periodi di grande incertezza dovuti anche ad esempio ad eventi come inaspettati o comunque inaspettati nella loro realizzazione effettiva, questa stabilità era molto più stabile il sistema precedente quando c'erano contratti pluriennali se non pluridecennali tra governi, quindi Andreotti concordava con Brezhnev che per i successivi 30 anni l'Unione Sovietica vendeva all'Italia il gas al prezzo X e il prezzo non cambiava per 30 anni, quindi insomma il primo punto che mi preme così sollevare è questo, il problema reale è la liberalizzazione dei mercati dell'energia e questo era facilmente prevedibile perché sono per esempio i mercati delle materie prime sia alimentari che non, non so il caffè, il cacao eccetera, tutti quei prodotti primari di cui vivono in larga misura i paesi in via di sviluppo, da decenni soffrono di questo problema, tutta la disciplina di studio che si chiama sicurezza alimentare si occupa proprio di questo, da un lato del fatto che i paesi in via di sviluppo trovano più conveniente esportare le derrate alimentari piuttosto che sfamare la popolazione perché i paesi lì pagano di più di quanto potrebbero pagare le persone che ci vivono e dall'altra il fatto che queste merci essendo tutte contrattate sui mercati finanziari, le fonti più importanti di reddito di questi paesi, il loro valore nominale è soggetto a forti oscillazioni e quindi chiaramente se un paese dell'Africa subsahariana vive sostanzialmente esportando caffè è ovvio che se il prezzo del caffè improvvisamente crolla questo è un problema, perciò l'intrinseca instabilità dei mercati finanziari e dei prezzi poi delle commodities come si chiamano era cosa nota, quindi era un po' difficile pensare che nel caso dell'energia le cose potessero andare diversamente, quindi questo è un primo punto. Il secondo punto che secondo me è importante sottolineare è che sull'inflazione c'è anche davvero tanta tanta ideologia, cioè tu prima menzionavi la teoria mainstream, quindi chiaramente la teoria mainstream ci dice, siamo abituati a sentirci dire da sempre che l'inflazione, è che i prezzi aumentano quando aumenta la moneta in circolazione, quindi se si stampa moneta allora aumentano i prezzi. Ora non vogliamo ovviamente fare una lezione di storia del pensiero economico che non mi sembra proprio il caso, però diciamo che questo sarebbe vero se fossero valide delle condizioni che la teoria dà per valide, che in realtà non esistono, tipo la piena occupazione, che non mi sembra che sia precisamente una caratteristica dei nostri sistemi economici attuali, la piena utilizzazione della capacità produttiva, cioè impianti che funzionano H24 sette giorni su sette producendo come dei pazzi e la costanza della velocità di circolazione della moneta, cioè il numero di volte in cui una banconota passa di mano, nozione questa che forse è addirittura ormai proprio superata dal fatto che come fai a calcolare la velocità di circolazione della moneta elettronica per esempio è un pochino più difficile, quindi insomma questa teoria poi è rimasta così dominante fino ad oggi, lo è ancora, nel discorso politico perché è funzionale agli interessi di chi viene avvantaggiato dall'inflazione perché di fatto l'inflazione alla fine non è altro che una grande redistribuzione del potere d'acquisto dai salari ai profitti sostanzialmente o comunque alle rendite, perciò il discorso stesso che ci sia il rischio di una spirale salari-prezzi è chiaramente un discorso estremamente come dire ideologico nel senso che chiaro il valore aggiunto una parte va ai salari, quello che non va ai salari va ai profitti, è ovvio che se mi aumentano i salari e io non riduco i margini di profitto i prezzi aumenteranno, cioè se a parità di margine mi aumentano i costi di produzione è naturale che i prezzi aumentano, cioè non potrebbe che essere così, però non è scritto da nessuna parte che debbano per forza essere i salari reali ad assorbire l'impatto degli aumenti dei costi, potrebbero essere perfettamente i margini di profitto, quindi se le aziende volessero mantenere i prezzi costanti potrebbero farlo serenamente comprimendo i loro margini di profitto, questo non è impossibile eppure è una opzione che non viene neanche mai messa sul piatto, poi possiamo discutere sono in grado o non sono in grado le imprese effettivamente di assorbire, hanno o non hanno profitti a sufficienza liquidità, a sufficienza da assorbire questi aumenti di prezzi, questa è una domanda che ovviamente è lecito farsi e in effetti noi ce la siamo fatta e abbiamo cercato di dare una risposta ovviamente, una media, una risposta media che può non essere vera per tutte le aziende, perché poi sappiamo che ci sono aziende grandi, aziende piccole eccetera, però utilizzando i dati diciamo settoriali, quindi quelle che si chiamano tavole input output, quindi andando a vedere non soltanto diciamo l'impatto sui prezzi o sui costi dell'aumento dei costi energetici diretti, ma anche del fatto che chiaramente aumenteranno anche i fornitori di altre materie prime, di altri input produttivi diciamo, avranno a loro volta degli aumenti in bolletta e quindi aumenteranno anche loro i prezzi e così via, quindi tenendo conto degli aumenti non solo diretti ma anche indiretti, se noi simulassimo l'effetto di un aumento del 500 per cento, ci siamo tenuti larghi perché volevamo proprio essere così, sovrastimare al limite, se noi stimassimo l'effetto di un aumento del 500 per cento del costo del gas, indipendentemente dalla sua origine geografica, quindi indipendentemente da chi è il fornitore, questo provocherebbe un aumento del livello dei prezzi, cioè del prezzo di quel paniere che è il consumo delle famiglie, che ovviamente non consumano né a cià, ci sono delle industrie molto energivole, la siderurgia, la produzione di energie elettriche eccetera, però chiaramente la siderurgia, il prodotto della siderurgia non entra nel paniere del consumo delle famiglie, quantomeno non ci entra direttamente, ci entra solo indirettamente, quindi l'effetto è molto smorzato. Ecco noi abbiamo calcolato che l'inflazione misurata su questo paniere a seguito di un aumento del 500 per cento del prezzo del gas, ovviamente senza considerare tutti gli altri elementi che possono essere poi, che possono portare in alto i costi di produzione, sarebbe stata intorno al 3,5-4 per cento, mentre invece noi stiamo osservando un'inflazione decisamente molto più alta, il che ci fa innanzitutto concludere che parte, lo ha detto persino la banca centrale europea, che non è precisamente il centro studi del comitato centrale, ecco, è che comunque le imprese hanno aumentato i prezzi in proporzione decisamente superiore all'aumento dei loro costi e in effetti questo è incontrovertibile, osservando quantomeno le medie per industria. Poi naturalmente possono esserci micro-imprese o imprese molto piccole che fanno più fatica a fronteggiare questi aumenti, mentre le grandi multinazionali possono far fronte anche eventualmente a dei periodi di profitti negativi, se è qualche cosa che rientra. Quindi questo, ben lungo dall'essere una buona notizia, significa comunque che si mette in moto anche un processo di, chiamiamola, selezione artificiale più che selezione naturale delle imprese, quindi le più grandi che tipicamente sono anche quelle che offrono le condizioni di lavoro, diciamo che hanno la maggior capacità anche di sfruttare fortemente, di estrarre valore plus valore, insomma, in maniera più intensiva dalla forza lavoro, hanno la possibilità, insomma, il fenomeno della concentrazione, cioè dell'aumento delle dimensioni aziendali e quindi della quantità, della capacità di controllo esercitato dalle singole aziende sull'intero sistema economico diventano più, insomma, ci sono delle spinte che vanno in quella direzione. Però ecco, diciamo che in media questo sarebbe stato l'aumento dei prezzi. Se poi andiamo a calcolare di quanto si sarebbero dovuti restringere i profitti per poter assorbire l'impatto dell'aumento dei costi del gas senza aumentare i prezzi, cioè mantenendo i prezzi costanti, in realtà tutte le industrie, ad eccezione di quattro, riescono perfettamente a mantenere i profitti positivi e anzi molto elevati. questi quattro settori sono la produzione di energia, la siderurgia, la logistica e i servizi postali, che ovviamente sono settori molto energivori, ma sono anche i settori che sono stati sempre tradizionalmente, insomma, quelli che una volta si chiamavano monopoli naturali, cioè quei settori che sono sempre stati pubblici e quindi lo Stato si può ben permettere di fronteggiare dei periodi anche di, calcolando che poi un settore pubblico che magari ha accumulato, insomma, invece che distribuire profitti, ha magari accumulato della liquidità che permette di fronteggiare delle emergenze, insomma, diciamo che senza dubbio sarebbe stato possibile mantenere i prezzi costanti e far scontare questo incremento dei costi di produzione alle imprese sotto forma di una riduzione dei margini, invece che come sempre sotto forma di una erosione del potere d'acquisto dei lavoratori. Quindi, l'argomento che ha portato anche il governatore della Banca Centrale, della Banca d'Italia, scusate, della Banca Centrale Europea, recentemente, insomma, a febbraio, se non mi ricordo a fine gennaio, inizio febbraio, che diceva, no, 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 attenzione alle richieste, parlava con i sindacati, attenzione alle richieste di aumenti salariali, perché qui rischiamo una spirale inflattiva, si può anche rivendicare che questa spirale inflattiva si blocchi, non riducendo il potere d'acquisto dei lavoratori e quindi ulteriormente spostando la distribuzione del reddito in favore dei profitti, ma una volta tanto sotto forma di una riduzione dei margini, non di una tassazione dei profitti, proprio di un controllo, di una calmerazione dei prezzi e quindi di una sostanzialmente eliminazione ex ante del problema della realizzazione di questi extra profitti. Quindi se noi andiamo a vedere la distribuzione del reddito dagli anni Sessanta a oggi, ci fanno sempre vedere solo gli ultimi pochi anni, dal 2008 ad oggi ed è migliorata in favore dei salari, di poco e sicuramente per effetto di cose tipo che vengono considerati profitti, anche cose che profitti non sono, tipo tutte le finte partite IVA, il fenomeno in Italia è piuttosto grosso. Ma se allarghiamo la finestra, andiamo a vedere dagli anni Sessanta, cioè il crollo della quota salaria è verticale ed è insomma estremamente evidente, si parla di più di 10 punti, punti percentuali, cioè insomma c'è stato davvero un enorme spostamento della distribuzione del reddito in favore dei profitti. Quindi ecco, come dicevi tu, le grandi espansioni monetarie che ormai avvengono da 15 anni non hanno mai provocato inflazione, a provocare inflazione in questo momento sono evidentemente i costi e l'avidità, infatti è stato coniato il termine gridflation in inglese che vuol dire proprio inflazione da avidità del capitale. Ecco, questo è il nostro modo, dico il nostro modo perché comunque è stato il lavoro che sta facendo con un gruppo di colleghi, quindi non da sola. L'altra questione che secondo me è importante sollevare riguarda la misurazione dell'inflazione. Noi parliamo di inflazione, però alla fine inflazione significa variazione del costo di un determinato paniere, del prezzo diciamo di quello che noi paghiamo a un determinato paniere di beni. Quindi la composizione di questo paniere è molto importante per determinare poi quale sarà l'inflazione, cioè se io prendo, se so che gas e energia e alimentari sono le due grandi categorie merceologiche il cui prezzo è aumentato di più, prendo un paniere dove queste due merci sono presenti con un peso molto alto e prendo un altro paniere all'interno del quale queste merci sono invece presenti con un peso molto basso, beh ovviamente se misuro l'inflazione con il primo paniere avrò un'inflazione più elevata di quella che otterrò se invece utilizzo il secondo paniere. È esattamente quello che succede in Italia con il famoso IPCA depurato, cioè quello che viene utilizzato per, diciamo così, come base per la contrattazione. Facciamo un passo indietro. L'ISTAT produce tre indici dei prezzi che sono basati su tre differenti panieri. Il primo indice si chiama NIC ed è l'indice per l'intera collettività e quindi considera come popolazione di riferimento tutti, tutta la popolazione indipendentemente da fascia di reddito, categoria professionale eccetera. Quindi lì il paniere lo stabilisce l'ISTAT, insomma anno dopo anno viene aggiornato ed è un paniere che è rappresentativo del consumo, diciamo, dell'intera collettività, il consumo medio di tutta quanta la collettività. Questa è l'inflazione calcolata come variazione del costo di questo paniere, quello che viene utilizzato per esempio nelle stime del governo, quindi quando il governo pubblica la finanziaria con le stime di crescita nominale reale l'inflazione si stima sulla base di questo indicatore. Poi c'è quello che si chiama FOI, che è il paniere delle famiglie di operai e impiegati, quindi diciamo si prende a riferimento non l'intera collettività ma solamente, diciamo, quella fascia di popolazione che in teoria ha un reddito medio più basso rispetto all'intera collettività perché togliamo, sono solo i lavoratori dipendenti, ecco, quelli che pagano le tasse. Quindi quello invece, quella è l'inflazione, l'inflazione calcolata sulla base di quel paniere è l'indice che serve agli adeguamenti nominali, quindi lo scatto istat dell'affitto è calcolato sulla base di quell'inflazione, gli assegni familiari, l'assegno di mantenimento per il codice, per il coniuge, quindi tutte le grandezze, i trasferimenti nominali vengono adeguati sulla base di quell'indice. Poi c'è l'IPCA che è l'indice armonizzato a livello europeo, quindi riguarda la popolazione di riferimento e l'intera collettività ed ha una metodologia leggermente differente dalle altre due che è la stessa metodologia utilizzata da tutti i paesi d'Europa, quindi il paniere sostanzialmente è stabilito dall'Eurostat in maniera tale da poter confrontare l'inflazione di tutti i paesi europei. Questo è stato fatto prevalentemente perché nei trattati di Maastricht tra i criteri c'è anche un criterio che riguarda l'inflazione e quindi deve esserci per forza un tasso di inflazione calcolato allo stesso modo in tutti i paesi europei per poter renderli confrontabili. L'IPCA depurato, che in realtà non si chiama IPCA depurato ma si chiama IPCA al netto dei prodotti energetici importati, è un paniere che è uguale all'IPCA, però senza i prodotti energetici importati che guarda caso, sono quelli il cui prezzo ovviamente adesso sta aumentando vertiginosamente, il che significa che se effettivamente si andasse a contrattare un incremento salariale basato su quell'indice, quest'incremento sarebbe molto più basso rispetto all'inflazione. Da dove esce fuori questo IPCA depurato? Come vi ho detto i tre indici ufficiali che calcola ISTAT sono Nick, Foy e IPCA. L'IPCA depurato non è uno dei tre indici ufficiali ma è l'indice che è stato concordato, che è emerso dall'accordo separato firmato da Confindustria Cisle Will nel 2009 per la contrattazione, quindi è stato stabilito dalle parti, c'è proprio scritto sulla metodologia dell'ISTAT che è davvero, sono tre paginette da cui si evince davvero molto poco, quindi ci sono molti dettagli che non è spiegata questa metodologia. Nel 2009 le parti avevano concordato che a calcolare il valore di questo paniere, quindi l'inflazione basata su IPCA depurato fosse un ente esterno, era stato scelto ISAE che è stato chiuso poco più di un anno dopo, passando tutta l'incombenza a ISTAT e diciamo così che la metodologia di calcolo è stata in larga parte concordata con le parti sociali, questo c'è proprio scritto dentro alla metodologia ufficiale dell'ISTAT che è quella dell'ISAE, tant'è vero che si si va in fondo, sopra c'è scritto ISTAT e in fondo c'è scritto ISAE con la data del 2009, quindi insomma l'hanno presa e ricopiata. Quindi quell'indice è stato esplicitamente, quindi è scritto nella metodologia, è stato esplicitamente pensato per rispondere all'esigenza di evitare di importare inflazione, cioè se c'è un aumento del costo del petrolio sui mercati internazionali e noi adeguiamo i salari stiamo importando inflazione, anche lì dando per scontato che i margini di profitto non si possono assolutamente toccare neanche per qualche periodo laddove in realtà la giustificazione che ci hanno sempre dato per il fatto che i profitti siano più alti dei salari è che l'imprenditore si assume il rischio di impresa, certo è che se non consideriamo rischio di impresa, nemmeno il rischio che il prezzo del petrolio possa aumentare in qualche momento per qualche ragione, allora non si capisce che cosa sia questo rischio di impresa, quindi i contratti hanno i contratti a termine, quindi possono licenziare quando gli pare, hanno la possibilità di scaricare tutti i rischi di cambio eccetera eccetera sul lavoratore tramite una compressione del suo potere d'acquisto, quindi diciamo che diventa un po' difficile non notare diciamo così qual è la logica. Dentro l'IPCA depurato il peso, l'ISTAT noi non sappiamo in effetti qual è il peso dell'energia importata, perché se noi andiamo a prendere il paniere dell'ISTAT dentro c'è l'energia, ma non c'è scritto da dove viene, quindi per poter calcolare il peso dell'energia importata, l'ISTAT fa tutta una serie di stime statistiche, ma non spiega, cioè la metodologia non precisa, insomma la metodologia è incompleta, non c'è scritto in che modo viene fatta questa stima, sulla base di quali dati, sulla base di quali ipotesi e questo me lo ha confermato, se si va sul sito dell'ISTAT, alla pagina dove viene presentata la pubblicazione dei dati relativi all'indice dei prezzi al consumo, di fianco ci sono dei contatti dell'ufficio che si occupa di produrre questi dati, io ho scritto alla persona che se ne occupa, la quale mi ha risposto dicendo che non esiste altra metodologia disponibile se non quelle tre pagine che sono sul sito dell'ISTAT, quindi questo è tutto ciò che è dato sapere e ovviamente nel momento in cui si va a calcolare un indice dove i pesi sono la cosa più importante perché sono quelli che determinano il risultato, non sapere come vengono calcolati questi pesi e non sapere esattamente in che modo le diverse parti sociali, quindi i sindacati, due dei tre sindacati maggiori da un lato e la confindustria dall'altra, il mio sospetto è che la confindustria abbia un peso particolarmente rilevante e probabilmente maggiore di quello dei sindacati nel determinare poi alla fine la metodologia, prova ne sia al fatto che l'estate scorsa è stata deciso di cambiare la metodologia, ci sono due paginette aggiuntive, è scritto esplicitamente che questo cambiamento è stato introdotto su richiesta delle parti sociali, prima come energia importata si intendeva solo il petrolio perché il petrolio era quello, era il prezzo del petrolio quello che aumentava, adesso li hanno separati petrolio e gas, quindi guarda caso l'ISTAT ha cominciato a produrre i dati tenendo conto della distinzione fra petrolio e gas, ovviamente in questo modo aumenta la componente che viene scorporata dall'IPCA e quindi diminuisce l'inflazione misurata attraverso quell'indice. Ecco, qui credo che sarebbe probabilmente importante a livello politico aprire una discussione su qual è il paniere, su come si costruisce questo paniere e su quali sono i pesi, intanto sull'opportunità di avere un paniere che escluda l'energia importata perché questo chiaramente è già di per sé una cosa, cioè senza neanche andare a vedere la metodologia diciamo, sarebbe già di per sé una cosa da rigettare, ma nel momento in cui poi effettivamente questa è l'indice che si utilizza, insomma sarebbe probabilmente anche opportuno, quantomeno se non pretendere di avere una voce in capitolo su come viene calcolato, almeno sapere come viene calcolato, cioè avere un'informazione puntuale molto dettagliata su qual è la metodologia che viene utilizzata. Per concludere, io adesso qui menziono una ricerca che in realtà ha fatto Matteo che è lì, con un altro nostro compagno che si chiama Lorenzo Esposito, con cui loro hanno fatto un lavoro sui bilanci diciamo delle aziende italiane, ovviamente con i dati 2022, anzi 2021 perché quelli del 2022 ancora non sono usciti, per vedere un po' qual è stato a livello un po' più granulare quindi proprio dei bilanci aziendali, l'andamento globale degli utili e di una serie di grandezze di bilancio, incluso i costi del lavoro eccetera e quello che ci dicono i dati di bilancio è che insomma i risultati delle aziende sono stati tutt'altro che negativi dal Covid in avanti, cioè tutta questa crisi in realtà il Covid non l'ha portata, sì c'è stato il primo semestre, il secondo trimestre diciamo nel 2020 che ha portato una forte contrazione ma poi c'è stata subito una ripresa immediata che è stato poi il motivo per cui nel 2021 hanno cominciato davvero ad aumentare i prezzi del gas, c'era la ripresa, era chiusa la Cina, era chiusa l'Europa, era chiusa una parte degli Stati Uniti, poi quando c'è stata la ripresa ovviamente gli speculatori hanno cominciato a scommettere sul fatto che aumentando così in fretta e così tanto la domanda sarebbero aumentati i prezzi, cosa che è puntualmente successa. Come? Tutto quello da pagare, chi diceva, chiudiamo, apriamo, era tipo una… Beh, quando il lockdown è finito le aziende hanno ripreso a lavorare, a parte il fatto che durante il lockdown ci sono state… …diciamo di sicurezza così estreme, di impasse, sopra di impasse… Ma adesso io non, come dire, non… Cioè il punto di vista economico non ha portato dei cambiamenti… Ma il fatto è che, diciamo, secondo me le chiusure… allora intanto durante il lockdown in realtà tante aziende non hanno fatto chiuso, perché la modalità com'era? C'era l'autocertificazione, avevano dato l'elenco dei codici Ateco, i famosi codici Ateco, i settori indispensabili, quelli che potevano restare aperti, però nessuno ha fatto dei… cioè ha detto ok, praticamente le aziende hanno autocertificato, noi siamo indispensabili e quindi rimaniamo aperte, alcuni hanno cambiato il codice Ateco dalla sera alla mattina, eccetera… Poi se usciva l'ispezione, se l'azienda che non era indispensabile era aperta, usciva l'ispezione e li beccava, allora chiudevano, altrimenti andavano avanti belli tranquilli a stare aperti, quindi quello che è successo… sappiamo benissimo che le forze ispettive sono state ridotte all'unicino, quindi le ispezioni ne fanno davvero molte, molto, molto, poche, perciò alla fine era l'inchiesta, come si chiamava la giornalista Francesca Nava, aveva fatto questa inchiesta, lei è originaria di Bergamo, quindi aveva fatto proprio questa inchiesta giornalistica molto dettagliata, dove aveva fatto vedere che quello che è successo lì… sì, però quello che è successo lì nella valle dove sono morti tutti è che in realtà le aziende non hanno chiuso, tantissime non hanno chiuso, ma anche quelle che hanno chiuso, poi hanno aperto, cioè il lockdown a un certo punto è finito, non è che è andato avanti per sempre… Ah ok, scusi, non avevo capito la domanda… Sì, beh certo, se andiamo a considerare… vabbè, allora, potremmo aprire una parentesi per esempio sulla ristorazione, io non sono molto propensa alla solidarietà, nel senso che uno di quei settori, diciamo che sfruttano la manodopera in maniera abbastanza… insomma, non tutti ovviamente, però insomma, hanno preso i ristori sulla base delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, quindi probabilmente se hanno dichiarato poco gli anni prima, poi hanno preso poco come ristoro, però certamente tante piccole attività… E' quello che dicevo prima, qualcosa di simile a quello che sta accadendo adesso con i costi del gas. Chiaro che la Leni… adesso Leni non è l'esempio giusto perché lei il gas lo vende, però la grande multinazionale che utilizza energia, ma comunque ha intanto potere contrattuale, quindi magari il gas lo compra ad un prezzo molto più basso di quello che lo paghiamo noi in bolletta e comunque ha capacità di fronteggiare anche con liquidità sua degli imprenditori… insomma, ha anche delle oscillazioni forti, non ha grandi problemi, certo che la piccola… che non so, il bar piuttosto che il ristorante, che quelli sono rimasti chiusi molto più a lungo, comunque magari non c'erano gli spazi, hanno dovuto ridurre… insomma, è ovvio che se parliamo di piccole attività al dettaglio, quelle certo che hanno subito molto, ma hanno subito molto anche per un altro motivo, secondo me, cioè che oltre al fatto che c'è stato il lockdown, durante quei mesi le persone hanno iniziato molto a comprare online e questa abitudine poi è stata non nelle stesse proporzioni, però non si è ritornati esattamente al punto di prima, quindi molte persone hanno iniziato effettivamente… cioè il commercio online ha preso molto piede, c'è stata una forte accelerazione in quel senso, infatti quest'estate guardavamo dei dati sulle crisi aziendali e abbiamo visto che la maggior parte, la maggior parte, che tante crisi aziendali recenti hanno riguardato proprio i settori, vabbè quello bancario, sempre per la diffusione chiaramente dei servizi bancari online, cioè noi adesso facciamo il bonifico, ce lo facciamo noi da soli dall'onbanking e in più paghiamo pure la commissione, quindi insomma ovviamente poi il personale si riduce per quanto riguarda la vendita al dettaglio, magari le persone si provano le scarpe per vedere se il numero gli calza e poi le comprano online… Sì, no, certo, io parlavo più di realtà produttive… I dati dei profitti registrati da grandissime imprese internazionali tipo Amazon, per citare la maggiore, sono stati… Vabbè, Amazon ha fatto… Sono aumentati tantissimo proprio negli anni del Covid, sì, no, certo, certo, comunque i numeri che noi abbiamo guardato, quelli dei bilanci aziendali, riguardano le aziende che fanno bilancio, vuol dire che sono aziende di una certa dimensione, che comunque, quindi le piccole imprese a conduzione familiare non ci sono proprio… Sì, ma senza dubbio, per esempio uno dei settori, come dicevo prima, che se avessero, che se assorbissero loro completamente, insomma che hanno dei margini di profitto abbastanza bassi, all'inizio questo risultato mi aveva lasciato un po' così, poi mi sono fatta un'idea di quale potrebbe essere il motivo, è tutto quello del settore della logistica, dico ma com'è possibile? Poi, in realtà, perché succede questo? Perché in realtà Amazon non si occupa di logistica, Amazon sta nel settore del commercio, quelli che fanno la logistica sono quasi tutti padroncini che alla fine sono più sfruttanti, sono ultra e sono i famosi, sì, cioè alla fine lavorano per Amazon, hanno il loro camioncino, però non è che sono dei capitalisti, sono dei poveri cristi che hanno il furgoncino e dormono fuori nel parcheggio di Amazon, aspetta… Esatto, quindi sono… Più portano, diciamo, non so se quei mercati sono uguali, ma quelli più consegne fanno più guadagnano… Eh certo, certo, ma infatti io avevo letto qualche tempo fa un lavoro di inchiesta che era stato fatto su Amazon, credo proprio sull'app di Piacenza e c'erano questi, a parte che dormivano nel parcheggio, cioè col furgoncino, stavano nel parcheggio perché praticamente altrimenti non… insomma non riuscivano ad accapparrarsi un'ora… e poi c'è gente che diceva che andava in giro con… cioè che non aveva neanche il tempo di fare la pipì, ma… sono i pannoloni, non so, proprio con i tempi così tirati che non… Tipo lo sfruttamento della mano d'opera, come la Stif, Glovo… queste aziende che non si capisce da dove sono uscite… E tra l'altro… La mano d'opera hanno fatto un'inchiesta proprio a Milano l'altro giorno, che persone che non si sa, non parlano italiano, hanno… avevano le biciclette truccate… uno ha detto che lavora gratis per conto di un altro… Ah vabbè, lì c'è tanta… c'è anche tanta… ovviamente… allora Just Eat… Non si capisce che sono multinazionali come Amazon, però l'escrittamento gli è permesso a grandissimi, se tutti i governi del mondo… Eh, sono diventati miliardari in quel modo… tu considera che Amazon ha un… ha dei profitti che sono praticamente più paragonabili al PIL di un paese di medie dimensioni, quindi immaginati il potere economico e quindi politico che può avere… sì, no, no, sto dicendo che sia giusto, però è così… No, 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 però un governo dovrebbe tutelare tutto il lavoro delle persone nel proprio paese, non di queste multinazionali che… cioè sfruttano le persone su quello che di tutti, li mettono in pericolo, non si capisce se dove pagano le tasse e se le pagano… Beh, le pagano molto, molto, molto… sai qual è il problema? Che quello è legale? Il problema è che quello è legale, cioè quella si chiama elusione fiscale… Cosa è così, cioè quello che… lei ha parlato di Confindustria, Corri, ma che cosa hanno fatto? Con chi? Se salari sono zero per le persone… Ma poi il problema è proprio che quelli che fanno le consegne per Amazon non sono dipendenti di Amazon, cioè hanno il loro mezzo, quindi non sono neanche classificati come dipendenti, cioè sono trattati praticamente peggio perché formalmente sono autonomi, però praticamente… Questo però era cambiato qualcosa, alcune consegne sono… l'ha preso e l'appalto per un anno le poste italiane… Sì beh, ci sono tantissimi operatori che lavorano per Amazon… Viene effettivamente nell'occhio del Ciclone in questi giorni per una prova fiscale, per una fiscale molto consistente, l'ex Bartolini e anche un'altra grande azienda, diciamo di trasporti a Medio e Portoraggio perché di poi l'evolgione anche e lo sfruttamento è ancora più accentuato… Ma io voglio fare una domanda, quindi da tutto quello che è stato interessantissimo sull'analisi, cioè il peso effettivo, se volessimo calcolarlo secondo parametri economici obiettivi, il peso della guerra in Ucraina sull'inflazione poteva essere addirittura più influente… Ma insomma se… La propaganda che qui ha enfatizzato notevolmente favorendo poi la speculazione… Sì, sostanzialmente sì, perché alla fine questi aumenti dei prezzi così alti, più alti dei costi, da cosa sono stati… come sono stati possibili? Dal fatto che tutti si aspettavano… nessuno si è stupito di vedere che, non so, la pasta è aumentata oppure ti hanno diminuito le dimensioni del pacchetto, quindi allo stesso prezzo te ne danno di meno… Ma anche lì il prezzo del grano è aumentato sì, è aumentato per la guerra in Ucraina nel senso che appunto ha causato movimenti speculativi particolari, però tutto quello che si consuma nel mondo è prodotto in Ucraina, l'Ucraina produce tutto il grano del mondo, non è possibile che sia solo… Allora direi una cosa, vabbè, fatto il fatto di pubblicità, pasta solo grano italiano, poi si parte la guerra e aumenta, non devo spiegare… No, la mia era una domanda più diciamo così teorica, nel senso che io quando, millenni fa avevo fatto l'esame di economia, avevano detto che il costo, il prezzo di un prodotto aumenta se aumenta la domanda, quindi aumentando la domanda aumenta il prezzo. Ora in questo caso il prezzo aumenta perché c'è l'inflazione, cioè questa immissione di denaro come diceva lei, però nel momento in cui diminuisce il potere d'acquisto per cui i prodotti non sono più acquistati nella quantità precedente perché appunto c'è l'inflazione, quindi i prezzi aumentano ma i salari rimangono sempre quelli, questo non porta a una diminuzione dei prezzi, è una domanda deficiente però che me la sono posta. Allora, diciamo che in realtà non è affatto una domanda stupida, forse era una cosa che avrei dovuto dire e mi sono dimenticata di dire, cioè quando prima dicevo che in realtà questo fatto che i prezzi aumentano quando si stampa moneta e che quindi i prezzi diminuiscono quando si fa una politica restrittiva, cioè se aumentano i tassi di interesse, è qualcosa che è vero solo in determinate circostanze, quello che succede è che in genere i prezzi aumentano quando c'è pieno utilizzo della capacità produttiva perché? Perché aumenta la domanda ma non si riesce ad aumentare l'offerta immediatamente perché se io ho installate le macchine per fare 10 automobili ne posso fare 10, non ne posso fare 15, quindi se me ne domandano 15 qual è la cosa più sensata da fare in quel caso? Aumentare il prezzo, le venderò solo ai 10 più ricchi tra quei 15 che le vogliono comprare, nel frattempo se si ritiene che quell'aumento della domanda sarà poi permanente, si fanno degli investimenti, si aumenta la capacità produttiva e quindi quella tensione scompare e il prezzo ritorna, cioè diciamo che la legge della domanda e dell'offerta in realtà funziona sicuramente sui mercati finanziari perché quelli sono costruiti in modo da funzionare in quel modo, quindi sono dei mercati artificiali costruiti con delle regole e sono proprio fatti per funzionare così. Ma per quanto riguarda i mercati reali, normalmente le cose non funzionano, a determinare i prezzi sono i costi di produzione più il margine dell'impresa. Sì, diciamo sì, il margine di profitto, cioè l'impresa dice spendo 100, il mio margine del 20%, 120 quello è il prezzo, ovviamente più l'impresa ha potere di mercato, più ha la capacità di incrementare questo margine e quindi di avere profitti. Finisco un secondo poi. Viceversa, quando i prezzi si vogliono fare questa cosa della diminuzione dei prezzi, cioè è vero che quando si alza il tasso di interesse i prezzi diminuiscono, ma non perché diminuisce la quantità di moneta in circolazione, ma perché si innesca una recessione, quindi quello che succede è che aumentano i tassi di interesse, diminuiscono gli investimenti, diminuisce la domanda di consumo, perché comunque ormai non siamo molto abituati anche ad acquistare soprattutto i beni durevoli, quelli che costano tanto a rate, quindi è ovvio che se il tasso di interesse diventa molto alto la domanda per tutti quei beni prevalentemente che vengono pagati a rate diminuisce, quindi comprimendosi gli investimenti, comprimendosi la domanda per il consumo, l'economia entra in una recessione, o comunque sia, insomma, magari non proprio una recessione, però almeno nel nostro caso sicuramente una recessione, però non necessariamente una recessione, però comunque sia almeno una stagnazione e questo ovviamente se poi nessuno ha più in tasca i soldi da spendere, le imprese sono costrette ad abbassare i prezzi, altrimenti rimangono… insomma… Quindi questo è il quadro europeo, uscendo dal quadro europeo, entrando nel mondo di BRICS, questi possono entrare in… cioè le operazioni che stanno facendo adesso questi paesi che, ad esempio, ho letto che in Brasile ha chiuso dalla Cina senza di passare dal dollaro, eccetera… questa nuova, non dico nuova economia, ma questo nuovo sistema di scambi può andare a creare problemi ulteriori? Eh beh, direi proprio di sì… In Ucraina… Beh, allora, diciamo che la guerra in Ucraina si inserisce in un contesto geopolitico dove chiaramente ci sono gli Stati Uniti da un lato e la Cina dall'altro come grandi paesi con tutta una serie di paesi satellite, se vogliamo chiamarli così, quindi non è che, diciamo, le due cose siano tra di loro scollegate, nel senso che ovviamente qui c'è proprio uno scontro tra quale che sia l'opinione di ciascuno di noi su chi ha ragione, chi ha torto, le origini, le cause, eccetera… ma indipendentemente da ciò è evidente che qui ci sono due blocchi contrapposti e che l'Ucraina sia teatro di un conflitto che va ben oltre il militare e ben oltre il luogo dove si sta attualmente svolgendo, quindi senza dubbio… Contrapposti. Sì, certo, tanto è vero che l'anno scorso quando c'è stata la votazione alle Nazioni Unite, mi sembra il marzo dell'anno scorso, noi hanno detto a grande maggioranza… ma in realtà se guardiamo i paesi che si sono astenuti c'è più di metà della popolazione mondiale, perché solo Cina e India fanno 3 miliardi, quindi quasi 3 miliardi, 2 miliardi e 8, quindi insomma diciamo che se andiamo a guardare… Cina, India, Brasile… insomma i paesi di quello che noi chiamiamo terzo mondo sono praticamente tutti quanti schierati dalla parte della Russia e quindi, diciamo così, della Cina… è proprio per fare il più potere dell'alimentare l'Occidente, come diceva anche la signora Brasile, fino a passare al dollaro… Ebbè, certo, adesso… Non ho capito questo, da quello che ho capito, anche recentemente cerca di… in inizio del tuo giorno, c'è nuovi carburanti abbocciato i nostri che derivavano da carburanti di natura di riciclo alimentare, per promuovere quelli più riesci, quindi… Cioè, ci sono anche delle divisioni interne europee, da quello che ho detto io… Ah beh, ma certo… …che di certo non favoriscono il mercato, per esempio quello statunitense, che è sempre, diciamo, è sempre troppo forte e unito rispetto… Anche loro mi sembra che in tutto questo non abbiano, credo, grosse contrapposizioni a questa guerra, che sta abbastanza bene… Agli Stati Uniti? Ebbè, caspita, certo… Sicuramente quelli che ci sono più di più, noi, in primis, in Italia… Beh, l'Europa, certo… Beh, l'Europa… I presi che ci dava la signora e lei, metterà in mezzo anche gli Stati Uniti, ci stanno facendo un po' di ferrigere, ci mettano i pericolti… Ebbè, siamo… Ebbè, per sfruggere la nostra molto recente Unione… Ma diciamo che i diversi paesi europei… Basta che vai a vedere… Per esempio, la Francia ha certi interessi, la Francia al nucleare, dal gas dipende poco… La Francia ha determinati interessi che possono essere diversi da quelli della Germania, dell'Italia, che invece ha un paniere energetico differente… Poi la Francia ha rapporti storicamente con il Nord Africa, diciamo… Quindi la Spagna si fornisce di gas dall'Algeria… L'Italia è andata a chiedere il gas all'Algeria… Gli spagnoli non è che l'hanno presa proprio benissimo questa faccenda, che Draghi sia andato in Algeria a chiedere il gas… Ci sarebbero anche gli algerini che vivono con i blackout… Con i blackout programmati… Perché invece che usare il gas per fare l'elettricità per le case degli algerini… Lo vendono a noi che arriviamo… No, paese sviluppato, paese ricco… Vogliamo comprarvi il gas e ve lo compri… Quindi… Diciamo che tutti… In Europa, ogni paese, si fa fondamentalmente gli affari suoi… Il problema è che gli affari di un paese… Tipicamente non coincidono con quelli di un altro… Quindi ci sono interessi, diciamo così, confliggenti all'interno dell'Europa… Dopodiché c'è anche… Io, ad esempio, fatico a capire… Onestamente, fatico davvero tanto a capire che la strategia abbia in testa… L'unica risposta che mi viene in mente è che non ne abbia una… La Germania… Cioè a me sembra che la Germania si stia suicidando… E ovviamente il suo suicidio… Non sarà senza conseguenze… Perché comunque sia non riesco a capire quale possa essere il senso di… Anche banalmente le sanzioni… Cioè anche se uno, diciamo così… Avesse il desiderio di colpire la Russia e di crearle dei danni… Cioè di utilizzare le sanzioni come un'arma… Il problema è che come arma quelle sanzioni… Non funzionano… Nel senso che gli unici ad averne tratto svantaggio… Siamo noi che le sanzioni le abbiamo messe… Ora, non è che tu in guerra… Se invece che sparare al tuo nemico ti spari su un piede… Non mi sembra precisamente… Una mossa di quelle proprio brillanti… Quindi… L'Europa non ha alcun senso… Diciamo che… Manifesta una discreta sudditanza da quello che viene deciso… Io presumo… Oltreoceano… Dalle parti di Washington… Probabilmente… Non è veramente inutile… Forse… Forse anche dannoso da qualche punto di vista… Secondo me da tutti i punti di vista… Diciamo che l'impressione effettivamente più che un suicidio consapevole… Come dire… Sì, è proprio una sudditanza… Noi europei… Germani Italia in particolare… Siamo stati ricondotti a uno stato di assoluta obbedienza… Nei confronti di una volontà che proviene da oltreoceano… E quindi ci ritroviamo a eseguire gli ordini… Ecco… Non vorrei metterla così troppo brutale… Però mi sembra proprio questo… Cioè noi… Ci stiamo suicidando… Fra virgolette… Per volontà altrui… Non per volontà nostra… Perché un suicida almeno lo fa con una propria intenzione… Cioè di togliersi la vita… Noi stiamo semplicemente… L'unica cosa che mi viene in mente… Comunque di cui fra l'altro abbiamo parlato anche nell'altro incontro con Fagan… Che abbiamo fatto a gennaio… E che la Germania ha in contropartita qualche cosa… In cambio di questo sacrificio della propria economia… Perché poi loro sono stati danneggiati dai tagli del gas… Il sabotaggio del Nord Stream… Eccetera… Però loro hanno avuto qualche cosa… Cioè sostanzialmente l'autorizzazione… Sempre da… Chi dà questo tipo di autorizzazione… Oltreoceano… Di produrre più armi… Per la vendita… Cioè nel senso che comunque la loro industria… Non è completamente azzerata… Anzi… C'è qualche… Qualche settore dell'industria tedesca… Che ha tratto vantaggio da questo… Il sicuro degli armamenti… E anche dal punto di vista geopolitico… Questo dà più importanza a un… Al cosiddetto… Quello che una volta si chiamava il gigante economico… Il nanopolitico… Proprio perché essendo uscito perdente dalla Seconda Guerra Mondiale… Dal punto di vista militare… La Germania contava zero… Infatti nell'amicizia franco tedesca… La Francia era la potenza militare… La Germania era principalmente la potenza economica… Adesso la Germania sta diventando anche un po' di più potenza militare… Questo forse può essere il suo tornaconto… Ecco… Per quanto riguarda l'Italia di tornaconti se ne vedono ben poco… Sì… Però non so fino a che punto questo… Nel senso… In questo momento magari può anche esserci… Cioè l'industria bellica magari effettivamente… Come dici tu tedesca può… In questo momento averne tratto vantaggio… Ma non sarà una cosa… Cioè da un punto di vista strategico… L'Europa comunque non… Cioè non è autosufficiente… Perché non abbiamo… Cioè produciamo… Non abbiamo materie prime… Insomma… Tutto il… Tutto il tema del colonialismo e dell'imperialismo… È stato proprio una conseguenza della necessità di procurarsi qualcosa… Che in Europa… Certo… Non c'era… Quindi ora… Io vabbè… Poi sono una pessimista di natura… Però io vedo… Insomma l'immagine che mi viene in mente è quella dell'incudine del martello… Non so… Poi… Ma infatti per riallacciare… Scusate… Vado in attirare nella macroeconomia… Gli Stati Uniti hanno varato recentemente… Un'imperazione Biden… Una politica fiscale… Hanno investito 800 miliardi di dollari… Non so se questa è la cifra reale… In sgrati fiscali… A vantaggio di aziende disposte a trasferire il know-how… E soprattutto la produzione… Negli Stati Uniti America… Gran parte di queste aziende sono quelle europee… E anche questo potrebbe ritorcersi contro la Germania… Perché in particolare il colosso dell'automotive… Cioè la Volkswagen… Sta valutando questo pare… Insomma… Anche la possibilità di esportare a parte… Cosa che non ha mai fatto fino a ora… Negli Stati Uniti America… O comunque sottostare agli accordi economici… Che privilegiano poi… La produzione del colosso dell'Unione Stati Uniti America… Cioè è una manovra penale… Non è quella… Che usa… Il piano d'Italia… È l'unico strumento… Su cui ora… Gli Stati Uniti hanno ancora un enorme vantaggio… Sulla Cina… E al tempo stesso… Stroppa l'economia europea… Diciamo… Sfruttandone ancora le potescalità… A proprio vantaggio… Il fatto che la classe politica… In Italia… In Europa… Quella che… I nostri decisori… Insomma… Non si accorgono di questa evidenza… E chiamano… Filo Pupiniani… Di quelli che… Si alzarono a fare analisi di questo genere… Francamente preoccupa molto… Questo ne fa molto… Perché… Poi prepara uno scenario… Nei prossimi decenni… Che è assolutamente impietante… Cioè… È un scenario… Che… Contempla la guerra… Ma anche la competizione… Aggressiva… Tra aree di influenza… In una fase… Naturalmente… Si vorrebbe… Maggiore… La maggiore collaborazione possibile… Data l'emergenza climatica… Tutti… Si può… Corre… La sopravvivenza stessa… Allora… Non vuole sfruttare anche l'emergenza climatica… Lo stanno già facendo… Ovviamente… Tutto il green… No… 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 Volevo chiedere una cosa… E la politica… Diciamo… Della… Della… Banca centrale europea… Cioè quella di… Diciamo… Raffreddare l'infrazione… Alzando costantemente… I tassi di conto… Che qualcuno ha definito… Ma insomma… Ormai… Ormai… Si sono espressi tutti… Dicendo che… Io ho l'impressione che… Vabbè… La Fed ha alzato i tassi… E quindi… Per evitare la fuga di capitali… Le devi alzare… Le devi alzare anche tu… Per… L'unica spiegazione che io mi do… Eh beh… Del resto… Si sa come… Poi ovviamente alzare i tassi di interesse fa comodo a chi… A chi ha delle rendite finanziarie, no? Certo… Perché ovviamente… Chi… Insomma… Chi riceve una rendita… Che cresce quando… Quando ci sono… Poi da un lato… Ovviamente… L'aumento del tasso di interesse… Ha un effetto anche sul debito… Cioè il debito pubblico in termini reali… Diventa più piccolo quando… Quando c'è… Quando c'è… Inflazione… Dopodiché ovviamente tutto questo avrà delle conseguenze… Eh… Insomma… Il fatto di… Diciamo… Il debito pubblico diventa più insostenibile all'aumentare del tasso di interesse… Ma l'inflazione rende il debito reale più piccolo… Quindi ci sono… Questi… Queste due… Cose in atto… E poi ovviamente l'aumento del tasso di interesse… Comunque in ultima analisi… Se non è… Se non è… Se non è sufficientemente alto da contrastare… Il… Il tasso… Cioè diciamo… È una ricetta che anche se funzionasse… Dovrebbe essere… Insomma… Una medicina che anche se funzionasse… Dovrebbe essere somministrata probabilmente in dosi… Così massicce… Che potrebbe… Uccidere il paziente… Ecco… L'innalzamento del tasso di interesse ha delle conseguenze anche sui valori degli stock… Che stiamo vedendo anche nelle crisi bancarie… Cioè sta provocando un dissesto di cui noi qui in Europa abbiamo visto gli effetti su Credit Suisse… E stiamo un po' guardando cosa succede a Deutsche Bank… No? Perché anche lì… L'innalzamento del tasso di interesse vuol dire che sostanzialmente tutti i titoli… Tutte le obbligazioni… Quindi anche i titoli di debito pubblico perdono valore di mercato… Quindi chi ce li ha come attivi ha una riduzione degli attivi… Questo è il motivo per cui la Silicon Valley Bank è fallita… E che sta provocando una serie di dissesti… Quindi in realtà è una politica che si fa agli interessi dei rantier… Da un certo punto di vista… Dall'altro danneggia anche gli stessi rantier… Perché gli fa scompensare attivi e passivi nel loro stato patrimoniale… Quindi per le banche questo qui può portare a… Beh, se magari sono esposte verso… Se sono esposte, certo… Ovviamente poi le banche sono dei contenitori… Dentro c'è un po' di tutto… Abbiamo visto nel 2007-2008 come è stato l'effetto diciamo di contagio… Quindi quando cominciano ad esserci fallimenti… Poi ovviamente questo non è… Fra l'altro… Riallacciandomi un attimo al discorso che facevi prima su come si contabilizza… Su come si misura l'inflazione… È abbastanza stupefacente… Volevo solo osservare come… C'è tanta poca trasparenza… Quanta poca ce n'era… Anche all'epoca dei credit default swap… Che non si sapeva come venivano apprezzate queste cose… No, voglio dire, uno dice almeno sui beni reali abbiamo un po' più la situazione sotto controllo… Ma per come la racconti tu… Cioè sembra che anche su come si misura… Su come gli uffici di statistica misurano l'inflazione… E quale parte tengono scorporata… Qual è la metodologia che sta dietro queste migliorazioni… C'è altrettanto opacità… Beh sì, la metodologia è assolutamente opaca… È affidato a degli sconosciuti che lavorano nell'ombra alla fine… Un po' come ai tempi dei credit default swap… Erano affidati a degli ingegneri che magari capivano niente di economia… E che decidevano qual era il valore di un paniere di asset… Con dentro delle cose che magari erano molto rischiose… Insieme ad altre che erano poco rischiose… Alla fine non c'era nessuna valutazione attendibile… Quindi è strano insomma… Ecco, è strano vedere che anche nel mondo dei beni reali… Si arrivi a questo grado di opacità… Per cause diverse… Però sta di fatto che siamo comunque un po' spiazzati… Beh insomma soprattutto quando si tratta di un… Adesso che si comincia a discutere un po' di indicizzazione dei salari… Eccetera… Se poi si utilizza un indice che… Appunto lì è un'opacità proprio come dire voluta… Nel senso che non è… È stato scelto di non utilizzare uno degli indici ufficiali… Ma di costruirne uno ad hoc… Però non si sa come è costruito… È come se… Da quanto hai detto tu prima… Eh sì, perché in teoria la costruzione l'hanno fatta insieme… Confindustria, CISL e WILL… Cosa c'è di scritto? Niente… E quindi? Non c'è niente… Non c'è niente di scritto… Il presidente dell'ISAE… Tu che vieni da Pavia lo conosci… Era Alberto Maiocchi all'epoca… Ah ecco… E io gli ho anche scritto… E lui mi ha risposto piuttosto… Mi ha risposto subito dandovi tutte le informazioni che mi servivano… Piuttosto piccato dicendo… L'Istituto dell'ISAE è stato chiuso… Perché i bravissimi ricercatori che ci lavoravano… Non erano tanto ben predisposti… A ricevere indicazioni… Che a loro avviso non avevano motivo di essere… Insomma… Di ricevere le indicazioni dalla politica… Non erano molto propensi a fare dei passi indietro… Rispetto a una loro… Così… Competenza tecnica… Di quello che loro dovevano fare… Per andare incontro alle esigenze… A delle esigenze politiche… Quindi questa cosa me l'ha… Me l'ha detta molto… Così… Molto… Molto… Insomma… Lui era piuttosto… Insomma… Questa cosa me l'ha detta con un certo rammarico… Perché comunque lui era il direttore di quell'istituto… Che effettivamente aveva… Insomma… Si va a vedere un po' che cosa faceva… Eccetera… Era un istituto che aveva un suo… Insomma… Faceva delle cose… Aveva dei ricercatori molto… Molto bravi… Li sai… Quindi… Questa cosa poi è passata… È passata poi… È stato chiuso… Adesso io… Ovviamente non sono in grado di dire che i due eventi siano scorrelati… Però è stato chiuso un anno e mezzo dopo… Poco più di un anno dopo che è stato concluso l'accordo… L'accordo è stato fatto nel 2009… L'ISAI ha chiuso… Mi sembra nel 2011… Non so se… È modo di controllare… Posso… Io… Ho fatto un conto una volta così… Giusto per… Si parla tanto di salario minimo… Io… Sono un po' più flessa su questa cosa… Servirebbe proprio un adeguamento del salario al costo della vita… Allora una volta ho fatto un conto… Sono andata a guardare il mio salario… Il mio stipendio del 2000… Che era intorno ai 1300 euro… E adesso è più o meno 1500… Quindi… Allora poi ho fatto una rivalutazione istatta… Da 2000 ad oggi… Ad oggi io dovrei… Secondo… Quello che riuscivo a comprare nel 2000… Con 1300… Dovrei avere 2680 euro… Ecco… Molto bene… Mi sono depresso… Anche perché sono passate… Non bisogna… Non bisogna farvi questi calcoli… Lo so… Mi sono accorta che fosse così… Perché la… La vita proprio è andata in… Cioè… Le difficoltà della vita… Veramente… Però… È molto peggio di quello che pensa… È… Cioè… È allucinante… È… Il fatto che anche l'indicizzazione… Il problema dell'indicizzazione è che… Comunque tu recuperi ex post… Qualcosa che hai perso… Che in realtà non recuperi… Nel senso che… Magari… No… Quello che tu hai già perso… L'hai perso… Non è che… Non è che lo recuperi… A meno che l'indicizzazione… L'indicizzazione sia istantanea… Eh… Si… Però comunque sia… Sì… Te lo indicizzano… Te lo indicizzano ogni anno… Quello che hai perso… I 12 mesi precedenti… No… Però almeno… Questa cosa è decinante… E non è una cosa si può fare… Perché c'era una fase… Di questa… Nella locandina… Dateci speranza… Ma… Secondo me… Secondo me… L'unico strumento davvero efficace… È il controllo dei prezzi… Cioè… Impedire che i prezzi aumentino… Punto… In quel modo… Non hai più il problema di indicizzare… Di indicizzare… Di indicizzare un bel niente… Ma ora… Se posso… Così… Parliamo bene anche di questo punto… Sul che fare… Dunque… Prima di tutto… Cioè… Sono assolutamente… Molto convincenti… Tutte le… Le… Le puntualizzazioni che hai fatto… Su quali sono le cause dell'inflazione… Però sta di fatto… Che comunque… Un'inflazione da… Mancanza di energia… Che non abbiamo più… A prezzi… A prezzi… Gli stessi prezzi… Che avevamo… Che avevamo accesso prima… Questo c'è… Poi… Al netto di… Speculazione… Margini di profitto… Che se ne approfittano… Appunto… Scusate… Il bisticcio… Proprio perché… Nell'aumentare dei prezzi… È un po' come… Ormai non è nulla… Più sotto controllo… E quindi… Chi può… Se ne approfitta… No… Questa è la cosa… No… Quindi… Sta di fatto… Sta di fatto… Che… Abbiamo energia… A costi più alti… No… Concretamente… Se eliminassimo… Se eliminassimo… La speculazione… Sui mercati finanziari… Che è già quello… Come si fa… Vabbè… È già… Un obiettivo politico… Dignitosissimo… Però… Ma se ci riuscissimo… A fare una cosa del genere… Comunque… Sta di fatto… Che non abbiamo più accesso… Alle risorse energetiche… Agli stessi costi… Eh… A cui avevamo accesso… Prima della guerra… O prima del covid… Se vogliamo… Anche retro… Beh… Non è detto… Che togliendo le sanzioni… Ora… Sia possibile recuperare quello che… Cioè… Ormai quello che hai fatto… È fatto… E poi… Questa cosa… Quindi c'è… Da un lato… Comunque… Un aumento strutturale… Dei costi… C'è… Al di là… Della speculazione… Che poi… E poi… C'è il discorso… I margini di profitto… I margini di profitto… Sono in gran parte… Una convenzione… Che uno eredita… Da… Dal passato… No… Quindi… Se noi ci eravamo abituati… A dei margini di profitto… Di… Non so quanto… Dimmi tu le cifre… No… È difficile… Per un… Per uno che si abitua a questi margini… Ridurli… Soprattutto… Basta obbligarli… Esatto… Ti stavo dicendo… Soprattutto è difficile… Che si riducano spontaneamente… Beh… Ma certamente… Quindi… Qui chiaramente… C'è tutto un conflitto in corso… Ed è… Anche nascosto… Perché non è una contrattazione… Cioè… Non è che stiamo vedendo… Sindacati e imprenditori… Contrattare… Qual è il corretto margine di profitto… Qual è il corretto livello dei prezzi… Mettiamoci d'accordo… Beh… Quello dovrebbe essere fatto senza dubbio con una legge… Cioè… Se… Come dire… Se si decide… Di imporre un determinato vincolo… Quello deve essere… Ovviamente deve essere una cosa fatta… Con lo strumento legislativo… Non è che… Anche perché in questo momento comunque sia… Non è che il potere contrattuale del… Così… Delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori sia straordinariamente elevato… I lavoratori hanno potere… Cioè… Nessun tipo di… Cioè… Le loro possibilità… Diciamo… Di acquisto… Con una… Anche dall'euro in poi… Si è sensibilmente ridotta… Ah beh… Sì… Certo… Nessuno… 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 Forse sarebbe una soluzione… Sì… Però chi significa uscire dall'euro… Nel senso che anche lì… Ok… Uno può dire… Secondo me… La costruzione istituzionale monetaria è… Non funziona… E quindi… Cioè… Uscire dall'euro… Ok… Ma come… Cioè… Il modo in cui… Poniamo il fatto di… Decidere di volerlo fare… No… Non era una domanda che ti facevo… Ti dicevo semplicemente che… Secondo me… Ok… Bisogna poi capire in che direzione si va… Nel senso che… L'euro è stato senza dubbio… Cioè… Cioè… La Gran Bretagna è uscita dall'euro… No… Non ce l'aveva l'euro… Mai avuto… È uscita dall'euro… Dall'Unione Europea… Però… Diciamo… Aveva… Ma… Comunque… Anche che loro non sono nell'euro… Ecco… Mettiamola così… Non è che sono in una situazione rosea… Perché hanno dovuto metterla in taccheggio… A pezzi di formaggio nei supermercati… No… Quello è chiaro… È un problema proprio… No… È un problema anche… Sistemico… Cioè… Ci sono… Nazioni come l'Olanda… Ci sono quattro gatti… Che si lamentano dei debiti pubblici italiani… Quando noi… Siamo a 70 milioni… Ci sono anche… Fanno i loro interessi… Fanno i loro interessi… Fanno i loro interessi… Fanno i loro interessi… Ma fanno il nostro… Vanno contro i nostri interessi… E… C'è chi se ne frega di Lollardo… Sono quattro gatti… Cioè… Capisci che… ma secondo me l'Unione Europea è una costruzione che è stata pensata allo scopo di introdurre delle modifiche allora io credo che l'obiettivo principale fosse quello di riorganizzare un po' il capitalismo europeo costruendo queste catene del valore che hanno centralizzando le teste di queste catene nel cuore dell'Europa Germania e i paesi che ruotano intorno alla Germania e in effetti questo è quello che è successo diciamo che questo obiettivo che fosse esplicito meno è stato senza dubbio raggiunto adesso chiaramente ci sono delle... non è che io lo condivida questo obiettivo però secondo me non è neanche... cioè quando tu dici l'interesse nazionale che intendi? io intendo l'interesse dei lavoratori che magari... appunto dico magari in realtà anche i lavoratori olandesi non è che se la passano tanto bene quelli che fanno gli affari sono i capitalisti quelli che hanno... ma io penso che se l'Europa rappresenti forse il primo di tutti i capitalisti... eh certamente il problema secondo me è che in realtà le regole europee... cioè sono i nostri... è la volontà politica... cioè se il governo italiano volesse fare alcune cose le potrebbe anche fare cioè molto spesso i nostri politici utilizzano il ce lo chiede l'Europa come una scusa per mettere in pratica una volontà politica che è la loro volontà politica perché per esempio... pensa alla questione degli aiuti di Stato gli aiuti di Stato si chiamano così quando lo Stato dà dei soldi a un'impresa privata ma se lo Stato fa... fornisce un bene o un servizio direttamente si dice in-house cioè lo fa internamente quello non è un aiuto di Stato soprattutto in determinati settori questa cosa si potrebbe fare perfettamente quindi non è vero che è l'Europa che ci dice che... sì l'Europa ci consiglia e ci spinge caldamente a liberalizzare i servizi però non c'è un obbligo di liberalizzare o di privatizzare la fornitura dell'acqua o di liberalizzare o di trasformare la TM in una SP cioè non c'è un obbligo a fare queste cose i politici italiani hanno scelto di intraprendere questa strada del resto se uno volesse anche sforare che so io i parametri di Maastricht sbattendosene allegramente di quello che ci dice la Commissione Europea che cosa ci possono fare? che fanno? ci bombardano? cioè ti danno le sanzioni e non le pago e che cosa ci può... cioè se un singolo Stato decidesse di disobbedire lo potrebbe... l'Italia è a grande... l'Italia centrale non è... si fanno una guerra economica d'accordo però nel senso se l'Italia, la Francia e la Spagna si mettessero d'accordo e decidessero di fare una disobbedienza rispetto a di mettere in questione determinate decisioni politiche perché comunque sia l'Italia non è la Grecia ma se salta l'Italia salta l'Unione Europea, salta l'Euro visto che ormai abbiamo allargato stiamo proprio sbracando però mentre che stiamo parlando di questo io faccio anche notare come il trattamento ai tempi d'oro dell'austerità 2012-13 e anni successivi è stato molto diverso in Grecia rispetto alla Spagna e Portogallo ad esempio a loro sono stati consentiti dei deficit governativi anche del 5% in quegli anni invece in Grecia è stato imposto il memorandum un andesterno in pesantissimo e l'Italia soprattutto era l'osservato principale perché è il paese più grosso di tutti questi ed era il paese a cui cioè facendo vedere cosa stava succedendo in Grecia questo valeva come minaccia per l'Italia per educarne quello grosso puniamo quello piccolo e dall'altro lato per tornare al discorso che facevamo prima il fatto di consentire a Spagna e Portogallo invece di stare un po' più rilassati poteva almeno secondo un mio sospetto un po' dietrologico però non tanto infondato servire a impedire che si formasse quell'asse di cui tu parlavi prima tra paesi mediterranei che potevano mettersi d'accordo per agire insieme contro la banca contro il volere di Schäuble hanno rotto sì ma appunto però voglio dire hanno tenuto i cordoni dell'austerità molto più rilassati nella penisola iberica di come non l'abbiamo tenuti ma erano anche un'arma dedicata per il cittadino ma anche ideologico e anche per quanto c'è per le sanziali e per quanto c'è per le sanziali e per quanto c'è per mettere in atto per i confronti e per i confronti che ancora oggi è un'estandierata come la condizion fondamentale in Italia non è possibile avere il video che è portato torni a gestire e la giustificazione anche di 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 l'argomento era quello ma il punto è che se ci fosse stato un asse mediterraneo no lì a quel punto il debito pubblico avrebbe contato ben poco cioè nel senso che come diceva come diceva Nadia se tu ti rifiuti di pagare le sanzioni oppure se tu non lo so ti imponi una tua volontà con assertività di fronte ai cosiddetti tuoi partner che poi in realtà sono lì col fiato sul collo anzi con le dita intorno al collo chiaramente insomma cambiano le condizioni e tu puoi anche dire vabbè il mio debito pubblico non è discriminante cioè non è che mi impedisce di fare delle politiche se servono cioè se io ho dei disoccupati li devo occupare basta sì ma anche perché comunque ormai ormai l'abbiamo visto cioè tutti i paesi che hanno dovuto ridurre i deficit chi più chi meno dal 2011 in avanti se andiamo a vedere il rapporto debito-pil ha continuato ad aumentare perché è chiaro che se fai una politica restrittiva ti diminuisce il debito di poco perché alla fine il grosso del nostro debito l'aumento il grosso dell'aumento del nostro debito è dovuto agli interessi sul debito pregresso nel senso che se togliamo gli interessi e guardiamo il deficit primario in realtà è un surplus cioè l'Italia dagli anni 90 spende meno di quello che incassa come tasse quindi la differenza la fa quindi tu riduci la spesa il debito non è che lo riduci più di tanto in compenso stai riducendo il PIL di più cioè nel rapporto conta più la variazione del denominatore infatti se tu aumentassi la spesa facendo degli investimenti insomma non aumentare la spesa come diciamo come si usa di solito pensare in termini keynesiani facendo le buche poi riempiendole ma con un'idea di diciamo investimenti che hanno un potere moltiplicativo più forte che comunque ti consentono anche di cambiare no la struttura produttiva lì allora riesci ad avere un tasso di crescita più alto cioè se fai crescere il PIL più in fretta di quanto non ti aumenti il debito e soprattutto magari il controllo sul tasso di interesse perché alla fine l'interesse sul debito pregresso dipende dai tassi di interesse è chiaro che se i tassi di interesse aumentano questo diventa ancora un problema ancora più grosso per la sostenibilità dei debito ma insomma secondo me gli erediti più alti andrebbero aumentate investimenti pubblici una ma anche privato il privato dovrà pagare le tasse più un po' in Italia ma in Germania sono più alte in Italia le tasse le pagano almeno l'80% della popolazione guarda sbaglia pure il balance si però se tu abbassi non so secondo me il tema dell'evasione c'è sempre stato è un tema che secondo me è più etico che non economico nel senso che io trovo moralmente inaccettabile il fatto che ci siano persone che non pagano le tasse però credo che questo di per sé potrebbe risolvere tutti i problemi i problemi dell'Italia a mio parere sono ben altri il fatto che comunque ci stiamo deindustrializzando abbiamo perso il controllo di certe catene quindi siamo sub fornitori sostanzialmente di grandi imprese localizzate altrove il fatto che non c'è per esempio tutto il tema della transizione energetica ma se non si fanno gli investimenti ovviamente la transizione energetica cioè se noi avessimo iniziato a fare degli investimenti magari pubblici con adesso chi li sta facendo gli investimenti alla fine ancora ancora o il settore pubblico o il settore privato con i soldi pubblici perché il PNRR che cosa è? è un trasferimento massiccio di risorse pubbliche verso il settore privato che poi ci fa quello che vuole senza alcun vincolo senza alcuna regolamentazione senza bisogno di rispettare alcun tipo di standard quindi il problema secondo me è semplicemente che l'impresa ovviamente so benissimo che non è pensabile che domani mattina si nazionalizzi tutto il sistema produttivo però con il covid per esempio si è visto bene che il mercato non è per niente in grado di coordinarsi di auto coordinarsi eccetera tu devi avere comunque una forma di programmazione o lasci che le facciano le grandi imprese e lo stanno facendo perché questo fatto della concentrazione cioè il fatto che le imprese diventano sempre più grandi e hanno sempre più potere di controllare tutta la catena significa che hanno la possibilità di pianificare di programmare e oggi gli strumenti tecnologici per farlo ci sono quindi qui la scelta è se la programmazione la fa lo Stato oppure se la programmazione la fanno le grandi multinazionali purtroppo andiamo in quest'ultima direzione io tornerei un attimo alla questione che abbiamo un pochino sorvolato prima e che in realtà è abbastanza centrale del tuo discorso cioè controllare i prezzi che vuol dire anche controllare la distribuzione del reddito come hai spiegato cioè naturalmente nei prezzi ci stanno costi dell'energia costo del lavoro e margini di profitto quindi se controlli i prezzi vuol dire che controlli anche i margini di profitto sostanzialmente perché cioè dal punto di vista politico perché pensi che questo sia più facile da realizzare per legge cioè attraverso provvedimenti che passano dal Parlamento anziché attraverso la contrattazione o non so beh la vedo un pochino come fai a farlo non lo so ma come fai a farlo in Parlamento? cioè questo è il punto no allora che non ci sia calma che non ci sia la volontà politica io stavo solo dicendo che un sistema di controllo dei prezzi deve essere per forza centralizzato non puoi avere un sistema non sto dicendo che sia facile o che ci sia la volontà politica di farlo ben lungi però per esempio sull'energia o sugli alimentari perché non ci sono mai stati prezzi calmierati ci sono sempre stati prezzi calmierati erano calmierati per legge cioè tipo il pane comune non lo potevi vendere più di x euro al chilo chiuso quindi no penso di no adesso non so forse su alcune ok quindi praticamente sì che poi in realtà noi pensandoci proprio con negli anni del covid abbiamo visto in nome dell'emergenza lo stato imporre ce ne siamo accorti tutti più o meno alcune restrizioni anche alla libertà personale e quindi bene o male questo è stato un po' intanto una messa in dubbio delle politiche di austerità che erano praticamente rimaste indiscusse per un decennio per tutto il decennio precedente ma anche l'idea che lo stato intervenisse sul mercato cioè questo poi l'ha fatto bene l'ha fatto male però era per la prima volta si è visto uno stato che ha detto bene qui ci vuole qui ci vuole la mano pubblica per definire che cosa si può fare che cosa no chiudere le imprese tenerle chiuse per ragioni di sicurezza pubblica ecco tutte queste cose fatte naturalmente in nome dell'emergenza sono state comunque una novità e sono state qualcosa che ricorda un pochino sebbene alla lontana provvedimenti da economia di guerra insomma cioè in cui lo stato prendeva in mano la gestione dell'economia con dei provvedimenti come dire autoritari in un certo senso beh io penso che comunque il covid abbia aperto quantomeno lo spazio politico per parlare di alcuni insomma se uno prima avesse detto controllo o nazionalizzazione dei settori strategici principali insomma adesso si può parlare di programmazione perché è evidente che senza programmazione ripeto lo fanno adesso lo fanno le grandi multinazionali però programmazione significa semplicemente dei piani di investimento a lungo termine che si pongono l'obiettivo di modificare la struttura produttiva quello che in teoria dovrebbe fare proprio il PNRR il problema lo fanno le imprese e non lo fa quindi lo fanno le imprese con l'obiettivo di avere insomma di ricavarci dei profitti se invece lo facesse però il diciamo la parola programmazione adesso si può pronunciare senza essere guardati come degli psicopatici venuti dal secolo scorso con il colbacco mentre prima il governo ha dato un problema adesso di programmare di prendere in mano settori che forse hanno abbandonato in maniera sai il governo poi non ce l'ha insomma almeno si potrebbe io credo che un primo passo che quello si potrebbe fare è quello di riportare questo tema all'interno della discussione politica poi ovviamente dopo insomma io in questo momento sinceramente non credo che esista qualche soluzione che consenta in tempi rapidi di avere dei risultati perché purtroppo però bisogna rendersi conto secondo me che la situazione è talmente seria non tanto dal punto di vista come dire di contesto lo è per l'amor del cielo ma proprio da un punto di vista politico andiamo a vedere quanta gente ha votato alle ultime elezioni che offerta politica c'era che alternative politiche sono state offerte quali qualcuno ha portato dentro al dibattito per esempio prima delle elezioni determinati temi no cioè abbiamo sempre comunque sentito ripetere quindi e uno due diciamo così che nell'immaginario collettivo certi argomenti l'inflazione il fatto che si aumenti i salari poi aumentano i prezzi cioè la spirale salari cioè queste queste convinzioni sono ormai così radicate che per riuscire secondo me a ribaltare o quantomeno a muoversi un po' in un'altra direzione occorre fare proprio un lavoro davvero di dibattito ad esempio col sindacato abbiamo fatto un corso di formazione su su questo tema dell'inflazione con la FIOM perché comunque anche i delegati o comunque sia i quadri del sindacato tante cose che negli anni in 70 erano patrimonio comune e anzi ma c'era anche una consapevolezza molto differente e anche una cultura politica che non c'entra niente con la cultura diciamo scolastica con il tasso di scolarizzazione con il titolo di studio perché se tu vai a vedere le interviste che facevano fuori dalle fabbriche negli anni 60 a operai che magari avevano la quinta elementare però insomma li sentivi che evidentemente nelle sedi di partito e insieme ai loro compagni al sindacato di certe cose parlavano e soprattutto la loro conoscenza se la costruivano loro dal punto di vista loro perché la teoria economica e tutte le cose che noi diamo per scontate sono in realtà il prodotto del sentire o di quello che è funzionale agli interessi della classe dominante quindi ovvio che se tu prendi in mano un testo di economia che ti dicono che è una scienza esatta quando non lo è perché è una scienza sociale e ti attieni come dire interpreti il mondo alla luce delle categorie che ti vengono proposte da quel tipo di teoria tu stai guardando il mondo dal punto di vista della classe dominante e quindi ovviamente non potrai che arrivare a quelle conclusioni quindi il lavoro da fare è principalmente un lavoro culturale ma non ripeto non dal punto di vista del professore che viene a fare la lezione proprio anche di elaborazione collettiva non esiste ormai sono vent'anni che ogni volta che ci sono le lezioni bisogna fare bisogna fare la coalizione in fretta e furia perché altrimenti poi perdiamo e poi altrimenti poi perdiamo non c'è tempo di fare un lavoro più e sono passati vent'anni e se vent'anni fa invece che cominciare a dirci queste cose però sai sempre il punto qual è anche secondo me sono parte di partiti ma questa riflessione ma anche lo so però alla fine i partiti così come il sindacato siamo noi quindi se uno vuole portare il problema però di questa informazione sociale che di fatto chiude gli spazi del dibattito pubblico in discussione e in parte il partito leggero impedisce di fare un dibattito come quello che stiamo facendo stasera ci sono delle sezioni in cui si discute le grandi fabbriche le tute blu c'è sempre un'altra priorità comunicavano tutti i giorni che condividevano l'aspetto 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 no no anzi usiamoli pure che è proprio è certo un processo diciamo così che avviene attraverso la formazione no sicuramente ma anche attraverso la condivisione di una condizione esistenziale una condizione economica che di per sé porta tutto sommato a sviluppare una sorta di solidarietà di diciamo visione comune delle cose questi luoghi non ci sono più bisogna comunque supplire all'asspetto di questi luoghi con altre forme altri mezzi di comunicazione che oggi di fatto sono ancora e ancora più di prima nelle mani del grande capitale però posso fare così ancora in Francia stanno contestando perché hanno una proprietà impressionabile hanno messo fuori fuoco noi siamo così in sette hanno messo fuori fuoco in Spagna una nazione questa differenza tra le condizioni io vengo da Piazza del Duomo c'è stata con la manifestazione di difesa della sanità pubblica c'era un po' di gente ma a Madrid sono stirati un milione e mezzo o quasi due milioni di persone ma l'Italia è la maglia nera da questo punto di vista in Italia i salari e gli stipendi sono diminuiti in vent'anni è l'unico paese osse che ha registrato un fenomeno secondo me la cosa che ha inciso molto il risultato dell'oncino eccetera è stata quella il grosso cambiamento tra gli anni 80 e 90 dell'esplosione del terzi anno non ricordo che una volta a un incontro io ho lavorato in terzi anno quindi lo conosco bene avevo detto ma vi siete accorti che non ci sono più le mense si va al fast food questa cosa qua ha inciso fondamentalmente perché la mensa la mensa dell'alba romeo era un luogo di scambio il fast food è il singolo che deve andare mangiare in fretta e tornare ma poi anche è proprio il da forma mentis di chi lavora nel terzi anno che sono tutte piccole agenzie agenzie di viaggio immobiliari di assicurazioni eccetera dove la persona che è sfruttata è in realtà si sente come dire un piccolo padroncino cioè si è capovolta proprio l'idea cioè se si va a parlare di sfruttamento si ti guardano e ti dicono ma no come cosa dici in realtà e se ne stanno accorgendo adesso perché lo sfruttamento ad esempio con i raid era arrivato a livelli talmente parossistici che uno poi quando ci sbatte contro si sveglia ma qui si è perso veramente un bentennio ma è stata proprio questa mutazione Pasolini direbbe a questo punto una mutazione di antropologi di passaggio col terziario che è stata una cosa veramente devastante beh sì certo quello più tutta la precarizzazione perché chiaramente io mi ricordo quando ero più giovane insomma quando ero una ragazzina parlavo con mio nonno che era no aveva fatto insomma lui era un operaio aveva il suo posto ha fatto 35 anni nella stessa azienda e diceva ma insomma ma scioperate no svegliatevi scioperate cosa fate dicevo sì hai ragione però tante persone hanno adesso soprattutto purtroppo quelli più più giovani non gli viene salta neanche per l'anticamera eccetera non gli scioperare perché sono precari sono disuniti sono frammentati sono tutelati questo è stata una forma di ricatto fortissima quindi la frammentazione diciamo è passata senza dubbio anche attraverso tutto il ma anche tutto il discorso legato allo smart working ora è ovvio che ci sono anche degli aspetti positivi non si può negare che non sia magari vantaggioso poter al di là del fatto che se ti spacciano lo smart working come un modo in cui tu puoi prenderti cura che so io dei tuoi figli che sono a casa sì ma quindi devo lavorare o devo stare dietro i bambini così per capire cosa che dovrei fare durante il giorno così io non ho figli peraltro però dico poi quando arrivano le bollette quando poi sei d'inverno a casa tua con le luci accese con la tua connessione che vabbè quella ce l'hai lo stesso e pazienza con il riscaldamento magari autonomo acceso tutto il giorno quando prima lo accendevi un'oretta al mattino e un'oretta alla sera insomma senza tutele senza una postazione ergonomica anche lì poi chi ha una casa bella grande comoda spaziosa con una camera con una stanza in più dove puoi mettere scrivania ben illuminata con la sedia ergonomica e tutto magari con un pezzettino di balcone ok io lavoro da dieci anni con il comune di Milano e se lavoro non è lo smart working intanto ti danno la postazione ergonomica ci sono due esatto c'è il giorno appunto di rientro ti danno anche un po' leggermente dei soldi per la connessione ma la cosa bella tu dicevi la cosa dei figli io l'avevo chiesto per i figli ero primo pioniera quella potrebbe essere un sistema che tu sei a progetto nel senso ti devono dare il tuo lavoro e la tua scadenza poi quando lavori tu cioè quando devi lavorare deve essere basato un conto sulle 5 ore che dovresti lavorare che sono 7 però comunque di lavoro effettivo sono 5 e quindi devo darti una progettazione di lavoro sulle 5 non è capace nessuno di fare però però quello potrebbe essere l'alternativa lo smart working per arrivare i vantaggi il tele lavoro sicuramente è diverso nel senso che è regolamentato cioè tu lo smart working lo puoi fare dove ti pare il tele lavoro tu devi essere comunque ma tu pensa anche al problema assicurativo se io sono in smart working posso lavorare dove mi pare questa mattina voglio andare a lavorare al parco vado a lavorare al parco vado lì e mi spacco una gamba non ti riconosco non esistendo il luogo di lavoro non esiste neanche lo smart working non è un gran che no 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 vabbè cioè a me fa piacere assolutamente che il parte eh sì 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 no ma poi possiamo continuare anche fino a mezzanotte però voglio dire direi che il l'obiettivo no di di mettere a fuoco questo problema dell'inflazione l'abbiamo l'abbiamo raggiunto abbiamo anche mi ha fatto molto piacere che la la discussione non è non è stata insomma non abbiamo dovuto tirarla fuori con la forza e si è infiammata subito quindi mi fa molto piacere e direi che a questo punto io non mi resta che ringraziare Nadia per la partecipazione per lo stimolo che ci ha dato salutiamo anche il pubblico a casa come fanno come fanno i presentatori quelli bravi no c'è come no 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 Grazie a tutti